Ciao raga e bentornati in questo nuovo video. Come leggerete già dal titolo, oggi voglio parlarvi di quello che è stato il secondo drop online della stagione Fall Winter 2017 del brand Supreme. Se ci fate caso non registro mai video preview, cioè di quelli che saranno i prodotti che poi giovedì usciranno, perché appunto come vi ho già detto potete trovarli tranquillamente sul sito Supreme Community. Ogni mercoledì voi andate lì, cliccate la drop list della settimana e vi dà tutti gli articoli con tutti i prezzi reali e aggiornati, tra l'altro con nome e descrizione già di quelli che saranno effettivamente gli oggetti che puoi lanciare al sito. Li troverete quindi tranquillamente ogni mercoledì per ogni settimana, quindi ogni giovedì c'è l'uscita, il mercoledì io vado a controllare tutti gli articoli. Precisata questa cosa abbastanza ovvia quanto no perché appunto è meno esperto, dicevo non faccio mai video preview il drop sugli articoli che usciranno, ma registro semmai sempre dopo quando ho acquistato, quindi ho la certezza di avere una cosa, oppure quando ho da commentare un fatto o altre cose con voi. Bene, in questo drop mi ero prefissato che avrei voluto prendere le chopstick e il sake set, che poi se ci stai facendo caso per noi toscani è difficile pronunciare chopstick e sake set veramente per la R e la S che anche la C che si fa un casino enorme, ma detto questo sono contentissimo appunto perché sono riuscito ad acquistarli entrambi, sia la chopstick che il sake set. Raga, cosa molto importante, ripeto, non uso bot per acquistare me drop, semplicemente questa volta sono riuscito ad avere i dati già compilati, ho dovuto soltanto mettere nel carrello e procedere al pagamento, sono stato abbastanza veloce anch'io nell'effettuarlo e quindi questa cosa mi ha premiato. Ho acquistato prima le chopstick, poi mentre erano in pagamento, quindi avevo mai processato il pagamento, sono andato subito di nuovo sul sito e ho cercato di riacquistare anche il sake set e fortunatamente ce l'ho fatta per un pelo perché delle bacchette sono riuscito ad arrivare alla conferma dell'ordine tranquillamente, mi è arrivato l'ultimo messaggio, l'acquisto è stato effettuato eccetera eccetera. Mentre del set di ceramica non ho ricevuto quel messaggio, mi è arrivato il pagamento e subito dopo mi è arrivata la notifica via email che appunto l'ordine è stato processato, però non mi è arrivato l'ultimo messaggio e soprattutto ho visto che due secondi dopo me l'aveva tolto dal carrello perché appunto era andato sold out. Quindi sul sake set ho avuto fortuna e ho giocato veramente sul filo dei secondi. Vi lascio comunque gli screen degli avvenuti pagamenti appunto come faccio sempre come testimonianza dell'accaduto. Volevo quindi condividere subito con voi in tempo reale questa bellissima notizia, cioè sono contentissimo. Fatemi sapere anche voi certo cosa avete comprato. Io personalmente non ho apprezzato questo drop se non appunto per questi due accessori perché la roba al vestiario non mi è assolutamente piaciuto per questo drop e non ho puntato a niente. Ciò non vuol dire che non c'erano cose carine tipo il jersey, quello da football era carino con la scritta supreme. C'era la felpa sempre con il logo qua davanti che anche quella era molto carina però ecco il prezzo secondo me non ne valeva la candela ma se avete comprato qualcosa fatemelo sapere anche voi e condividiamo insieme insomma questo drop. Voglio rispondere in questo video un'altra domanda ovvero sul perché non vado ad acquistare al negozio fisico. Ragazzi il negozio fisico è molto più difficile cioè online esce a quella determinata ora e devi soltanto comprarla senza fare file. Mentre per poter acquistare al negozio fisico devo innanzitutto sono iscritto a una newsletter che mi avvisa durante la settimana dove tipo il martedì una cosa del genere usciranno i ticket che devo andare a prendere per poi fare la fila il giovedì mattina. Quindi il luogo di uscita è casuale e può essere vicino a te qui dove vivo io oppure può essere anche dall'altra parte della città il che vuol dire che se arrivo dall'altra parte della città c'è già mille persone, ora mille no, però tante persone che stanno già facendo la fila per prendere il ticket che gli servirà il giovedì per acquistare direttamente il negozio. Posso al massimo un giovedì appunto riandare al negozio e mostrarvi la fila che c'è dopo magari aver droppato quello che volevo droppare oppure quando c'è un drop di cui non mi interessa niente. Quello certo posso farlo se vi interessa ma io personalmente mi trovo bene preferisco acquistare tranquillamente online diciamo tutta la vita ecco. Quindi raga scrivetemi nei commenti cosa avete preso e cosa invece non siete riusciti a prendere per un pelo come magari nello scorso video ed ho anche un annuncio molto importante da farvi. Allora raga siamo arrivati a mille passa iscritti al canale, mille duecento siamo attualmente e vi ringrazio di cuore. Cosa voglio dirvi con questo? Se mi seguite sui social o avete già sentito nello scorso video volevo aprire un contest per appunto celebrare i mille iscritti e le subs sul canale. Sembreranno poche sembreranno tante semplicemente vi voglio ringraziare per il supporto perché capite bene che fa piacere appunto avere tante persone che condividono la tua stessa passione e soprattutto con cui confrontarti con cui rivolgerti e personalmente appunto voglio tenervi come amici che condividono la stessa passione quindi farvi appassionare se non lo siete al mondo moda automaticamente se siete già appassionati far sì che appunto riusciamo a mantenere un rapporto seppur virtuale no? Detto questo sarò onesto con voi all'inizio volevo comprarmi soltanto le chopstick poi però dentro di me ho pensato devo avviare un contest per i mille iscritti. Avevo già quest'idea in testa già a partire da un po' meno iscritti e pensavo appunto di avviarlo molto prima per poi terminarlo ai mille invece avvierò qualcosa tra poco per poi terminarlo non so come comunque farò un video esclusivamente a riguardo di questo. Cosa posso anticiparvi quindi? Posso anticiparvi che ho comprato anche il sex set soltanto per regalarlo a uno di voi quindi ho speso quei 50 pound tra spedizione e tutto per avviare questo contest e in un prossimo video dirò cosa fare per partecipare eccetera eccetera comunque un fortunato tra di voi si aggiudicherà questo sex set in regalo esclusivamente da me con tanto di bigliettino come congratulazioni per aver vinto da parte mia all'interno poi del pacco che inviero. Che dirvi mi sembra che quello che vi ho appena detto sia un bellissimo contenuto non penso ragazzi che domani parteciperò al drop di palace perché appunto non ho tutti questi soldi da spendere e non esce qualcosa che mi fa particolarmente impazzire se non magari uno o due felpe però alla fin fine preferisco magari risparmiare qualcosa un po' ora per poi comprare nei drop più avanti anche per supreme eccetera eccetera se riuscirà qualche collaborazione dato che ne dovranno uscire veramente tante. Perciò per ora è tutto io vi ringrazio come sempre per l'attenzione vi invito a lasciare un like iscrivervi al mio canale e soprattutto ragazzi seguirmi su instagram anche perché quando avvierò il contest sicuramente avrete bisogno di condividere diciamo un'immagine della vostra storia in cui mi taggerete ma queste sono informazioni che vi darò più avanti però al momento vi invito a seguirmi appunto spero vivamente che il video vi sia piaciuto noi quindi ci vediamo a un prossimo video da parte mia degli accessori giapponesi che arriveranno spero presto è tutto bello